È una vera e propria festa, una parata, lo vedete alle mie spalle, dedicate interamente al mondo del biologico, quella che è stata messa in scena oggi, 29 settembre, qui ad Expo. È una giornata mondiale proprio dedicata al mondo del biologico, a fare gli onori di casa, assieme al Ministro delle Politiche Agricole e anche Bologna Fiere, che qui ad Expo ha creato un vero e proprio parco dedicato alla biodiversità. Una festa, quella del biologico, con tanto di parata, la vedete, la sentite, anche animazione, musica, banchetti, tutto interamente dedicata alla cultura biologica, innovativa e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida importante, importantissima, nutrire il pianeta, energie per la vita. Questo è il claim che ha fatto da sfondo all'intera manifestazione. Bene. Allora, Vice Ministro Andrea Oliviero, con una dialogo importante, che è quella dedicata al biologico. Oggi è una festa, lei l'aveva annunciato poche settimane fa che il 29 settembre ci sarebbe stato questa importante giornata. Che cos'è? È una vera festa, perché abbiamo da un lato da festeggiare i risultati straordinari di questo comparto, che sta crescendo in termini di numeri e anche di fiducia nei consumatori, ma dall'altro lato è anche un momento per riflettere e per dire che il cuore di Expo, della sua proposta dell'alimentare, alimentare bene il mondo, del dare sostenibilità alla nostra agricoltura, è rappresentato proprio dal biologico, che è una grandissima potenzialità per il nostro paese, ma per tutti i popoli che lo scelgono. Ha una bandiera in mano, l'abbiamo rubata al concerto, Paolo Carnemolla, presidente di Federbio, una sfilata lunga, quasi il decumano, per una festa importante, è importante anche per voi? Beh, è importante sì, perché chiude un percorso, che è quello del forum del biologico in Expo, con la consegna oggi al vice ministro Olivero di un documento in cui in quattro cartelle, con diciamo dei supporti, delle dichiarazioni, un supporto importante a livello internazionale, spieghiamo perché il biologico è la risposta al quesito di Expo. Duccio Campagnoli, presidente di Bologna Fiere, la musica suona, la parata è terminata, è una festa che sta andando avanti, una festa che l'ha vista in un qualche modo mattatore, pensatore per una giornata dedicata al mondo del biologico. Perché è successo questo? È stata una bellissima giornata che insomma corona questi mesi di lavoro qui a Expo con l'organizzazione del Parco della Biodiversità. Abbiamo alla fine potuto organizzare, Expo ci ha consentito di realizzare una delle sue feste, una delle giornate più importanti che si fanno qui in Expo, dedicate ai paesi presenti o ai grandi temi e oggi è stata la giornata del biologico e del Parco della Biodiversità. Abbiamo potuto camminare assieme a tantissimi, a centinaia di produttori biologici del nostro paese per le vie di Expo, per il grandissimo decumano in mezzo a tanta gente. Abbiamo lanciato la nostra proposta, io sono bio e tu e tantissimi hanno risposto che credono molto nella necessità e nella possibilità di una bellissima innovazione nella nostra agricoltura, nel nostro modo di vivere e di alimentarci per rispondere a questa grande tematica di nutrire il pianeta.